ciao a tutti e benvenuti sullele king tv allora quest'oggi vi mostro un articolo legato alla panini che non sono né figurine né album e né card ma bensì schede telefoniche e ragazzoni sono talmente datato che c'erano le schede telefoniche le schede telefoniche alcuni di voi non le conosceranno sicuramente le schede telefoniche si usavano nei telefoni pubblici erano precaricate da 5 mila lire 10 mila lire perché parliamo i tempi della lira e tu potevi fare telefonate per quell'importo allora non tutti sanno perché le schede telefoniche sono uscite un bel po di tempo fa si usavano diciamo così si usavano un bel po di tempo fa almeno fino a una ventina d'anni fa si usavano ancora anche se molto meno perché poi con l'arrivo dei cellulari si sono usati sempre di meno la vanini ha fatto dei prodotti insieme con la telecom su queste schede telefoniche adesso ve li mostrerò allora queste sono quelle relative al 1997 98 questo Antonio Carlos Zago che potete vedere della Roma c'è proprio la figurina su queste qua del 97 98 gli introvabili si chiamano questa questa raccolta diciamo di schede telefoniche ecco qua questa è da 5 mila lire quella di Antonio Antonio Carlos Zago questa è la scheda telefonica poi abbiamo della Juventus Egdar Davids eccola qua sempre con la figurina di quell'anno 97 98 sempre gli introvabili eccola poi ragazzuoli io queste queste schede telefoniche molte di queste schede telefoniche me le sto vendendo su ebay trovate il link qui sotto dove trovate anche molte altre cose che sto cercando di smaltire delle mie collezioni vecchie quindi se vi interessa c'è il link qui sotto in descrizione potete cliccarci e è praticamente il mio account personale quindi se volete acquistare cose del genere potete farlo anche sul mio account personale Maurizio Gans del Milan questa anche del 97 98 gli introvabili Faustino Aspriglia grande giocatore colombiano del Parma Faustino chi è che non si ricorda Faustino? Eccolo qua poi abbiamo il principe Giuseppe Giannini io questa adesso addirittura ce l'ho ce l'ho 6 volte questa scheda telefonica eccolo qua Giuseppe Giannini e poi ci sono quelle così allora queste qua sono del 98 99 i grandi acquisti scritto qui sopra quindi hanno fatto queste card con la Panini con questa che non è proprio una figurina come queste del 97 98 dove c'è proprio la figurina di trattata ma c'è il giocatore in movimento ok? quindi non c'è proprio la figurina dei calciatori di quell'anno qui troviamo Oliver Biroff grande bomber del Milan tetesco che il Milan ha acquistato dall'Udinese eccolo qua sempre da 5.000 lire poi abbiamo Fabio Junior della Roma che grande acquisto i grandi acquisti 98 99 abbiamo acquistato sto fenomeno Fabio Junior eccolo il nuovo Ronaldo qui abbiamo di vincodino Roberto Baccio con la maglia dell'Inter che fa parte sempre dei grandi acquisti 98 99 e Jorg Erich della Fiorentina sempre schietta 5.000 lire c'è anche lui giocatore che se non sbaglio era danese adesso non mi ricordo bene questa è la mia collezione di schiette dei calciatori panini proprio schiette telefoniche si parla di schiette telefoniche quindi proprio di cose di molti anni fa perché se basta vedere la scadenza magari di questa scheda questa scadeva nel 2000 ma scadeva nel 2000 però è stata fatta nel 97-98 perché le figurine sono del 97-98 quindi parliamo di oltre 20 anni fa è la stessa cosa da quest'altra queste sono 98-99 la scadenza era il 2001 quindi parliamo di schiette telefoniche in uso 20 anni fa oltre anche 20 anni fa la Panini ha fatto questo accordo con la Telecom e si faceva pubblicità diciamo così con le schiette telefoniche sono pezzi non rari vi dico la verità non sono rarissimi si trovano abbastanza bene anche perché la tiratura delle schede perché dietro c'è la tiratura delle schede è di oltre un milione nel senso se si vede ecco questa qui aspettate che metta a fuoco ecco tiratura oltre un milione quindi sono tutte così quindi non sono rare perché poi ci sono quelle molto più basse come tirature e quelle sono più rare però è un bel prodotto un bel ricordo soprattutto per quanto riguarda i collezionisti dei calciatori panini io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti